Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una donna è deceduta dopo uno scontro frontale tra due auto nel Nisseno, due persone in codice rosso e una in codice giallo. Un altro incidente si è verificato nella serata di ieri lungo la vittoria Scoglitti, una donna si è ribaltata con la propria auto perdendo sangue vistosamente. Momenti di paura in una scuola di Alcamo dove uno studente avrebbe preso un coltello minacciando alcuni dei compagni di classe. Si può salvare la vita in tempi brevi e ciò che è accaduto dal San Marco al Cannizzaro in poco meno di 13 minuti con il trasporto di un fegato per il trapianto. Proseguono gli sbarchi a Lampedusa provenienti dalla Tunisia. Nelle scorse ore sono state soccorse tre imbarcazioni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19.30.